Musica Martedì 20 settembre, buongiorno, ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa del mattino in diretta alle 7.30 in replica fino alle 8.30 poi c'è la messa, poi di nuovo la replica delle 9.10 poi tutta la mattinata con la programmazione degli speciali eventi di Fano TV e ritorniamo alle 13.30 per l'ultima programmazione ma vi ricordo che poi questa rassegna stampa è sempre disponibile sul nostro sito internet occhialanotizia.it andiamo a vedere adesso il santo del giorno, poi le previsioni del tempo la beata vergine Maria Dolorata, il sole è sorto alle 6.46, tramonterà le 19.20 abbiamo temperature ancora molto estive, molto calde, questa è la fotografia delle 7.30 21 gradi e 6, 21 gradi e 6 che significa insomma ancora una bella giornata di caldo e comunque un caldo sopportabile. Cielo parzialmente nuvoloso per il transito di nuvole stratiformi e locali addensamenti sui settori interni, le temperature sono senza variazioni di rilievo, i venti continuano a soffiare sono di brezza tesa, sud-occidentali sui settori dell'entroterra dove l'intensità sarà a tratti anche maggiore, soffieranno più forte e sud-orientali invece saranno i venti che espireranno lungo la costa il mare sarà mosso con moto ondoso in aumento. Mercoledì domani, 16 settembre, avremo cielo sereno o al più poco nuvoloso per un transito di lievi velature, le temperature anche qui domani saranno senza variazioni di rilievo i venti saranno moderati, sempre sud-occidentali nell'entroterra e sud-orientali invece lungo la costa, il mare sarà mosso. Per quanto riguarda la giornata di giovedì 17 di settembre avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo il vento sarà moderato, stessa fotografia di questi giorni ovvero sud-occidentali nell'interno, sud-orientali lungo la costa tre giornate fotocopia fino a giovedì 17 le condizioni di stabilità perdureranno quindi fino alla giornata di giovedì con un leggero peggioramento previsto per il fine settimana. Allora, ieri hanno manifestato i ragazzi della scuola Santa Marta ragazzi che avrebbero dovuto essere sui banchi come tutti gli altri in realtà erano in strada con striscioni, cartelli a lanciare slogan, a chiedere una scuola più sicura ovviamente la Santa Marta in questo momento è nelle mani dei muratori nelle mani di coloro che devono rimetterla a posto però ci sono dei disagi, dei disagi inevitabili soprattutto perché saranno dislocati in vari punti della città di Pesaro in attesa che la scuola, che l'istituto torni agibile e torni perfettamente a posto e di questo naturalmente parlano i giornali questa mattina tutti e tre i quotidiani. Cominciamo allora a vedere che cosa scrive il messaggero con questa fotografia grande che dà un po' l'idea la sensazione di come siano andate appunto le cose ieri mattina primo giorno di scuola. Santa Marta in strada, la scuola si ribella e ha ritardi e disattenzioni studenti, genitori e docenti in corteo fino a Piazza del Popolo a Pesaro dopo il crollo dei solai striscione a lutto per la scuola il preside dice mai incontrato il sindaco se Pesaro vuole essere turistica non può fare a meno dell'alberghiero intanto Ricci inaugura la materna a Borgo Santa Maria una storia a lieto fine, moderna e funzionale la più bella che c'è a Pesaro per noi è stata sempre una priorità bravissimo, bello farsi fotografare con la fascia addosso le forbici e c'è però il sindaco deve andare anche nei posti dove scotta, la terra scotta non solo dove ci sono i flash e gli applausi perché è lì che si vede poi la palissiano quello che sto dicendo però è importante evidentemente sul Santa Marta forse il sindaco di Pesaro qualche senso di colpa ce lo potrebbe avere poi sempre su questo argomento andiamo a vedere le altre pagine quella di Pesaro no l'abbiamo saltata va bene, andiamo avanti allora anche perché ne basta una poi il resto più o meno il tenore è quello insomma il racconto è quello andiamo a Fano invece sul resto del Carlino perché un colpo strano a dire il vero perché hanno preso hanno fatto un colpo all'ASET sono entrati di notte alle 4 sì, alle 4 del mattino insomma anche se poi non c'è il sole ma comunque 4 del mattino colpo all'ASET 50 mila euro sono state ignorate le telecamere rubate addirittura 100 litri di gasolio i due ladri hanno preso anche mole elettriche e attrezzature la cosa curiosa curiosa fino a un certo punto perché poi chi indaga su questi furti sa benissimo che le strade sono due o c'è il basista quando uno sa perfettamente dove andare dove sono le chiavi dove è il furgone qual è il furgone dove stanno le cose eccetera eccetera le cose sono due o c'è il basista o è qualcuno che lavora lì dentro quindi le strade credo che siano siano queste poi dopo ovviamente il panorama quando si parla di illegalità è vasto la gamma è vastissima quindi magari ci potrebbero essere anche delle sorprese però per non saperne leggere e scrivere penso che queste siano le due strade su cui si potrebbe si potrebbe indagare comunque il colpo è stato fatto come dicevamo all'ASET questa è la fotografia della sede siamo nei pressi all'incirca vicino all'ex zuccherificio lo prendiamo sempre come riferimento ex zuccherificio in alto invece la presidente di ASET SPA Lucia Capodagli e sotto appunto il luogo dove i due ladri hanno effettuato il furto e tutta la cronaca la potete leggere sui giornali il brodetto il brodetto guarda adesso ai Balcani c'è stata questa edizione di successo un successo straordinario cui va fiera naturalmente la Confessor Centi verso le semifinali europee nei paesi vicini è uno spot per la città ai cooking show arrivi dall'Italia e dall'estero lunghe file per gli stand e dal cooking show internazionale a un concorso di cucina amatoriale perché Chef in the City è una bella intuizione che sta riscuotendo ogni anno sempre maggiore successo e troverete tutte le coordinate per partecipare a questa MasterChef locale 28 mila euro per le famiglie che hanno fatto figli invece è l'iniziativa che rientra nella grande festa del Codma che si è svolta a Rosciano di Fano per un centinaio di giovani famiglie del territorio che hanno ricevuto un contributo di 28 mila euro per aver incrementato con il loro amore il numero dei cittadini ovvero hanno fatto figli e quindi hanno avuto come tutti gli anni accade dalla banca di credito cooperativo di Fano questo assegno questo bonus bebè così viene chiamato il tartufo il tartufo di Pergola a questo punto c'è se si comincia con arriva l'autunno quindi si comincia con il profumo del tartufo basta gelosie facciamo la strada del tartufo questa è l'idea e l'invito che è stato fatto durante le presentazioni della fiera di Pergola dal sindaco Baldelli che dunque chiama Acqualagna e Sant'Angelo invado poi sempre dal Carlino di questa mattina le elementari siamo a Fossombrone le elementari rimangono in via Cairoli Chiara Billi che è il vice sindaco replica al capogruppo Mezzanotti da Pesaro la chiesa gremita per l'addio a Enzo Mancini Umberto Eco ricorda i capodanni con l'amico per l'imprenditore parole affettuose anche da Furio Colombo il parroco dice dove ci sono i giusti c'è la città vera quelle delle nostre persone come il nostro Enzo era lui il vero intellettuale della famiglia non gli piacevano i discorsi ma si è circondato di persone con idee questa è la fotografia dell'ultimo saluto nella chiesa di Sant'Agostino per i funerali di Enzo Mancini sotto la vedete con c'è la moglie Franca a sinistra Umberto Eco Furio Colombo gli amici dell'imprenditore con il rettore Ivano Dionigi vedete Furio Colombo Umberto Eco eccetera eccetera qui la signora la vedova dunque andiamo avanti con gli altri giornali la pagina di Fano la pagina di Fano la padalino in primo piano diventa un istituto modello eseguiti i lavori strutturali il cortile del Sant'Arcangelo restituito agli alunni dunque è stato smontato il palcoscenico che quest'estate è servito per gli spettacoli alla Gandiglio restano da nominare invece due docenti per il corso musicale respinta a metà delle domande sopra disagio nella classe per tre nuove insegnanti su quattro alcuni alunni disorientati e genitori preoccupati per il venir meno dell'auspicata continuità didattica l'acqua può essere solo pubblica sì unanime per l'assemblea Ato Fano 5 Stelle PD apprezzano la chiara presa di posizione del sindaco il parco di Forlì modello per quello dell'aeroporto maggioranza soddisfatta dal voto sull'area andiamo avanti con i giornali sempre dal Corriere CISL attacco al welfare sindaci unitevi aumentano le proteste contro la regione Fano 5 Stelle chiede a serie di agire nel CDA di Adriabus soppressa la corsa per l'alberghiero e da Bellocchia al campus di Pesaro occorrono due abbonamenti qui si parla ovviamente di quel fardello di quel macigno che pesa sulle tasche dei genitori che è l'abbonamento per mandare i figli a scuola con l'autobus un pesante costo in più anche per i lavoratori un salasso per le famiglie degli studenti che provengono dalle località interne della provincia sì in effetti scrive bene il giornale perché non ci sono solo gli studenti pendolari ci sono anche i lavoratori e quindi un peso anche per loro maggioranza con i 5 stelle un processo mediatico PD sinistra unita noi città noi giovani intervengono sul licenziamento deciso dall'ambito sociale e poi sotto Valentina ti lascia una canzone fa sfoggio delle sue qualità canore Valentina Valdelli 15 anni sabato sera era nel programma di Antonella Clerici dopo tre anni la studentessa di Sarungarina è tornata in televisione cresciuta fisicamente perché in effetti la ricordavamo tutti un po' più piccolina però cresciuta fisicamente ma con lo stesso talento ha interpretato in diretta un brano di Mia Martini poi un'altra fanese che promette molto bene è la vignettista fanese che ha vinto a Friuli Doc lo spirito di vino migliore è quello di Sam Bartolucci che ha vinto un concorso internazionale indetto dal movimento turismo del vino Friuli Venezia Giulia e stiamo parlando di Samanta Bartolucci fanese Doc poi andiamo sulla pagina di Fano e Valle del Cesano del Corriere Adriatico una corsa contro il tempo che abbiamo vinto sono 12 gli istituti del territorio di Mondolfo e Marotta e tutti sono stati sottoposti ad interventi e quindi per dire insomma tutti gli altri hanno problemi noi a Marotta Mondolfo li abbiamo aperti tutti sono tutti belli puliti lindi sistemati quindi insomma meritano la paginetta del giornale creare la strada del tartufo delle Marche il sindaco Valdelli presenta la fiera di Pergola e lancia la proposta di sinergia tra le capitali del Tubero e poi da Cartoceto due grandi opere in bilancio la nuova scuola dell'infanzia e il restauro del teatro del trionfo il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi dice non ci sarà nessuna decurtazione nei servizi ai cittadini e nessun innalzamento delle aliquote cioè non alzeremo le tasse da Senigallia invece debutto shock nell'aula gli alunni vanno a finire nell'aula del ripostiglio insomma il caso alla cupetta non entra neppure la cattedra i genitori preferiamo non protestare ma trovare una soluzione decisione sicuramente saggia insomma al campus di Senigallia uscite scaglionate la presenza dei vigili con disagi limitati alla circolazione poi a Senigallia ce l'hanno con le lucce ci hanno da fare con le luccele non paga la lucciola questa è la notizia del giorno il mattinale non paga la lucciola e la ferisce con il coltello un iesino di 40 anni rintracciato e denunciato dalla polizia la vittima è una ventenne prostituta dell'est adesso io ci ho scherzato ma in realtà il problema è serio perché comunque Senigallia ha il problema della prostituzione soprattutto quella stradale adesso può passare quella in casa ma quella stradale è veramente una piaga tra l'altro mi diceva qualcuno che anche a Fano ogni tanto c'è qualche qualche signorina che si affaccia in strada so che le forze dell'ordine sempre molto attente seguono e cercano di scongiurare che che queste donne prendano possesso delle strade perché quando poi prendono possesso delle strade è l'inizio del degrado quindi questo andrebbe scongiurato a Fano ancora è tutto molto limitato diciamo che il problema è dal Cesano in giù verso sud delle Marche allora a Besero caos dopo lo show di Violetta l'intreccio di causa perché perché è successo che chi è stato in quei giorni in quelle ore a Besero è rimasto imbottigliato nel traffico è successo un casotto perché perché c'erano i concerti di Violetta la fiera i lavori sulla strada per il Santa Colomba la chiusura del casello di Cattolica per il MotoGP insomma è stato un putiferio e adesso insomma c'è qualcuno che vuol capire di chi è la responsabilità di tutto questo caos caos dopo lo show è vero che c'era il palazzetto dello sport che era strapieno però insomma Galdenzi che è il comandante dei vigili di Pesero tre pattuglie in servizio la responsabilità direi di tutti e di nessuno beh tre pattuglie per tutta sta roba adesso non lo so poi non sono io il comandante dei vigili però insomma certamente era un piano che andava forse studiato meglio il racconto degli automobilisti coinvolti un'ora un'ora dall'A14 al palazzetto dello sport e per uscire dal parcheggio un'ora da oggi stop ai veicoli inquinanti riparte la zona blu e scattano i divieti calcolati 18 sforamenti delle PM10 poi ancora il Santa Marta l'abbiamo visto sempre dal messaggero poi per Pesaro ancora qui il saluto a Enzo Mancini per Pesaro una perdita immensa e poi la pagina di Fano del messaggero eccola qua cooperative situazione complicata ma il complottismo è deleterio l'ambito sociale Alleruzzo presidente del labirinto replica ai troppi sospetti la maggioranza attacca 5 stelle ossessiva ricerca di visibilità l'assessore Barnese ha incontrato i candidati per il ruolo di coordinatore temporaneo e in questa immagine ritratto Alleruzzo che è il presidente del labirinto questa cooperativa appunto di cui si sente parlare spesso non voglio entrare nella polemica politica ma sgomberare il campo da ipotesi che non corrispondono alla realtà poi conto alla rovescia ormai questo conto alla rovescia ma quant'è che facciamo il conto alla rovescia sul dregaggio non lo so comunque conto alla rovescia per il dregaggio io ve la leggo intanto siamo qui tutte le volte a dire conto alla rovescia adesso bisognerebbe raccogliere questi titoli e metterli da parte perché siamo conto alla rovescia riparte il conto alla rovescia all'inizio dei lavori portuali è provisto per la settimana entro la settimana con ogni probabilità già dopo domani bene poi qua invece sempre sulla pagina di Fano il messaggero oltre 3.000 partecipanti alla festa del socio della banca di credito cooperativo della BCC di Fano volevo chiudere con questa pagina del Corriere per dirvi intanto che a Fermignano per la cronaca durante la festa del biciclo sono spariti 12 portafogli sono stati derubati pensati figuranti della rievocazione storica del battaglione Estense e già qui pensate un po' come stiamo messi poi ecco su questa notizia voglio chiudere l'anatema del Vescovo non è il Vescovo di Urbino per chi legge solo i titoli uno può pensare che il Vescovo di Urbino ce l'abbia con Dona Ifon che è uno spettacolo di Mattias Martinelli in realtà Mattias Martinelli è di Urbino in scena con il musicista Matteo Castellan però questa cosa è successa al festival al Baiocco di Abano Laziale un gruppo di preti seminaristi è intervenuto durante la rappresentazione dello spettacolo intimando i due di interrompere immediatamente il monologo di Dona Ifon io ne ho visto un pezzettino in effetti adesso io non avendo visto lo spettacolo non avendo visto niente è inutile che stia qui a dire a giudicare a fare il pistolotto però è chiaro che già una fotografia come questa adesso limitiamoci all'essenziale alla superficie senza andare a pretendere di vedere tutto lo spettacolo però verrebbe da dirsi uno perché poi ecco no andiamo in fondo perché vi devo leggere questo per farvi capire allora lui dice ovviamente si sono tutti arrabbiati contro i preti per dire ma come vi permettete di ingerire contro eccetera eccetera lui dice Mattias quindi l'artista riteniamo l'episodio una grave ingerenza nella nostra attività di artisti una violenza verso la libertà di pensiero oltre che immotivato il testo il testo parla dell'ossessione per le nuove tecnologie io ho visto un pezzettino dai youtube prima di venire qui e prima di parlarne e vabbè può piacere non può piacere però mi spiegate cosa c'entra un uomo vestito da suora che dovrebbe essere un don vabbè un uomo vestito da suora che per parlare dell'ossessione per le nuove tecnologie deve prendere per i fondelli i preti le suore ma la cosa ancora più grave è la stessa liturgia perché se voi andate a vedere quel pezzettino che ho visto io al posto dell'alleluia si canta iphone iphone ora è vero che crozza fa la parodia che piace tanto anche i preti perché qualcuno dei preti amici me l'ha segnalato è un quadro bellissimo del papa però è sulla figura del papa è una parodia con il frigo bellissima fa ridere fino a un certo punto ma fa ridere ma non crozza non prende in giro la liturgia per la quale e alla quale partecipano miliardi milioni di fedeli in tutto il mondo ecco è lì che probabilmente Mattias ha avuto poca sensibilità e dove non ha assolutamente ragione buona giornata ci vediamo domani a Grazie a tutti.